Un fine settimana ricco di sport ad Arezzo con i campionati di società il 6 e il 7 maggio. Quanti atleti sono attesi in città e cosa ci dobbiamo aspettare da queste due giorni? Sicuramente sono due giorni importanti per l'atletica retina. Abbiamo noi menzionato il ritorno alla grande atletica ad Arezzo ed effettivamente con queste due giornate è l'occasione buona per vedere atleti cimentarsi su specialità olimpiche importanti come la velocità, come i salti, come i lanci e come il mezzofondo ma con atleti anche di prestigio saranno presenti la Bazzoni, quindi l'atleta nazionale sarà presente l'Accunio, l'altra atleta nazionale, l'Aretina addirittura nel triplo. Quindi diciamo anche atleti aretini che potranno cimentarsi molto bene per poter poi accedere alla finale nazionale che dovrà svolgersi diciamo a settembre per quanto riguarda i campionati di società. Ovviamente è una prima manifestazione che si disputa per quanto riguarda l'atletica dell'anno e quindi ognuno dei partecipanti cercherà di dare il meglio di se stessi. Ovviamente la presenza è massiccia perché saranno due giornate intensissime. Iniziamo a un quarto alle due del sabato fino a terminare alle dieci con la marcia del sabato sera e poi la domenica ricominciamo un quarto a luna con il martello femminile e poi finirà verso le sette e mezzo con la quattro per quattrocento femminile. Ecco diciamo che la presenza è prevista intorno ai mille quattrocento mille cinquecento atleti gara quindi sicuramente un grande spettacolo con grande performance da parte dei protagonisti quindi le vedremo risultati importanti nei cento con dieci due e tre oppure nei due cento con sotto i ventuno insomma oppure nel salti in alto intorno a due e venti ecco quindi questi sono alcune delle indicative diciamo ipotesi di diciamo di risultato che potranno venire fuori quindi senz'altro è l'occasione buona per gli aretini per poter trascorrere due pomeriggi importanti sabato 6 e domenica 7 al nuovo campo di atletica Enzo Tenti di Arezzo.